Fabriano purtroppo si contraddistingue in questi ultimi anni per l'espogliazione dei servizi. Abbiamo avuto la perdita degli uffici dell'Enel, abbiamo avuto la perdita degli uffici del Metano, per dire le cose che sono più vicine e più importanti per i cittadini. Ma parliamo anche, per esempio, ultimamente la viopista di San Cassiano. È una perdita gravissima, soprattutto perché era diventata un punto di riferimento nazionale. Oggi invece ci troviamo ancora una volta a parlare del rischio di chiusura della sezione di staccata del Tribunale di Ancona qui a Fabriano. Con noi l'Avvocato Enrico Carmenati. Enrico Carmenati ha seguito e sta seguendo la vicenda per poter porre un freno a questa situazione che ci penalizzerebbe non poco. Avvocato, a che punto siamo? Ma io vorrei premettere che sto seguendo la vicenda, anche perché, chiaro, direttamente interessato pure come Avvocato. Ma non è da adesso che seguo queste cose, insieme a tutti gli altri colleghi fabrianesi e anche delle sezioni distaccate del Foro Anconetano e del Tribunale di Ancona. Il problema è grave, è grosso e di grande rilevanza. Probabilmente è sottovalutato dall'opinione pubblica e dai politici. Io lo seguo sia sul versante del Consiglio dell'Ordine, in quanto recentemente eletto in tali organi, in tali ente, dove ricopro la responsabilità proprio della Commissione delle sezioni distaccate. Sia in qualità di Avvocato Fabrianesi, insieme a tutti i colleghi del Foro. Una duplice veste che la porta a dire che cosa? Rischiamo più grosso questa volta rispetto agli anni passati? Assolutamente sì. Rispetto a tutte le altre iniziative che sono state prese a salvaguardia della sezione distaccata di Fabriano, questa volta il rischio è molto più concreto e reale. C'è una determinazione del Ministero e quindi del Governo come tendenza alla soppressione di tutte le sezioni distaccate, qui nelle Marche ma anche nel resto d'Italia. Rimarrebbero, a secondo i desiderata del Governo, rimarrebbero soltanto pochissime sezioni distaccate. Parlano addirittura anche della soppressione di 40 sedi di tribunali minori, perché c'è una differenza tra la circoscrizione e le sezioni distaccate. Ma adesso qui non è probabilmente... Il problema è il nostro per la nostra sezione distaccata. Il problema è il nostro e il problema è della sezione distaccata. Ora noi abbiamo delle frecce da poter lanciare, la prima di tutti è la distanza da Ancona e il disagio che questo creerebbe a tutte le nostre popolazioni. E' forse una concentrazione eccessiva, già eccessiva, nel tribunale di Ancona di tutte le pendenze. E' un assurdo come il Governo non si ponga il problema che Ancona si paralizzerà. Se le quattro sezioni distaccate del tribunale di Ancona dovessero tutte convergere nella città di Ancona, il Palazzo di Giustizia si paralizzerà. La cosa che più mi lascia essere fatto è proprio questa insensibilità sia del Governo e anche delle istituzioni locali, perché a questo punto bisogna veramente che si mobilitino tutti. Per esempio, quindi ad Ancona andrebbero Fabriano? Andrebbero, secondo il progetto che ancora non conosciamo ma che sappiamo essere questo, andrebbero Fabriano, Senigallia, Iesi e Osimo. Quindi una concentrazione abnorme? Assolutamente, basti pensare soltanto al traffico mattutino. Già è difficile adesso entrare in Ancona, poi sarà quasi impossibile. E quasi quantomeno trovare un parcheggio. Il parcheggio poi diventa una cosa proibutiva, i costi sarebbero enormi. Pensate solo che andranno in Ancona non soltanto gli avvocati, i testimoni, i consulenti, il personale delle gangellerie, cioè tutti coloro che avranno bisogno anche per un certificato del Tribunale, perché il Tribunale non fa soltanto o gestisce soltanto o meglio decide le cause. Il Tribunale ha tutta una serie di attività, che sono quelle di volontaria giurisdizione, a cui i cittadini si rivolgono semplicemente come cittadini, molto spesso anche senza il Ministero dell'Avvocato, per sbrigare le più normali pratiche, amministrazioni di sostegno, rinunce all'eredità, abbe accettazioni con beneficio di inventario, cioè tutto un insieme di attività che non sono quelle più prettamente giudiziarie che graverebbero tutte quante sul Tribunale di Ancona. Che cosa si potrebbe fare? Un invito, un appello alle istituzioni, alla città? Quale potrebbe essere una via per dare almeno una risposta e far capire qual è la situazione che si verrebbe a creare nel caso in cui? Secondo me la prima cosa che bisogna dire è che il Ministero pensa di risparmiare i soldi in questo modo, sopprimendo le spese, evitando le spese delle sezioni distaccate, invece ci sarà per la collettività un aumento di costi smisurato. Primo. Secondo, non ci sarà una giustizia giusta, perché ci sarà un intensamento tale della giustizia e che questo comporterà allungare i tempi delle cause, mentre nelle sezioni distaccate è possibile ottenere sentenze in tempi ragionevoli ancora. E quindi tutto questo verrà a meno. Che bisogna fare? Bisogna mettere intorno al tavolo tutti quanti, ma quelli che contano. E non so soltanto i magistrati e gli avvocati, sono i parlamentari, è il governatore della regione, sono i sindaci, sono quindi le realtà istituzionali intese nel senso più pieno del termine che devono intervenire. Voi avete in mente un'iniziativa breve o qualche... Ma certo, ci sarà una serie di iniziative, perché già poi sono iniziate, sono partite. Ieri c'è stata una riunione che ho richiesto al sindaco di Fabriano e l'abbiamo convocata, tra l'amministrazione comunale, che ha bigruppo in consiglio comunale, e gli avvocati fabrianesi. Dalla riunione è emerso un impegno totale del Consiglio, dell'amministrazione, a sostegno del Tribunale, quindi ci sarà una fattiva insomma azione in questo senso. Secondo me... Ecco, a livello parlamentare, come lei giustamente sottolineava. Io ho interessato in molte occasioni il senatore Gasoli, con il quale mi sono regato anche in più occasioni, dal senatore Filippo Bercelli, dall'ex ministro Nito Palma, e quindi il parlamentare è impegnato in questa direzione. Occorre fare altrettanto con gli altri, ma so che si stanno muovendo, si stanno sensibilizzando, quindi adesso si tratta di metterli tutti intorno al tavolino. E quindi essere operativi a breve per poter dare quanto... Sicuramente, anche perché i tempi non sono lunghissimi. Sono molto vicini, in quanto il senatore Bercelli, il presidente della Commissione Giustizia del Senato, mi ha detto che... Ci ha detto, in un incontro che abbiamo avuto come Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a Roma, appunto accompagnati dal senatore Gasoli, ci ha detto chiaramente che è intenzione del governo licenziare la proposta di revisione della geografia giudiziaria, così si dice adesso, in tempi molto stretti. E quindi le nostre proposte devono arrivare con altrettanta celerità sul tavolo giusto. Tenete conto, e tutti dobbiamo tenere conto, che i pareri delle Commissioni Giustizia e della Camera del Senato sono consultivi e non obbligatori. Però voglio dare al mio amico intervistatore Daniele Gattucci una chicca. probabilmente la legge delega è viziata da illegittimità costituzionale. Questa è una notizia delle ultime ore, ultimissime ore, importantissima, in quanto c'è una importante sentenza della Corte Costituzionale del 13 febbraio di quest'anno, pubblicata, depositata il 16 febbraio, che ribadisce il concetto che le disposizioni contenute nella legge delega e quindi di conversione del decreto legge a monte del governo non possono essere suscettibili di allargamento di competenze legislative. Quindi in termini concreti? In termini concreti significa, e anche io questo aspetto, la sentenza della Corte Costituzionale già l'ho esaminata, però bisogna che approfondiscono il discorso al monte, in termini concreti significa che il decreto legge, il famoso mille proroghe, che contiene queste norme, era partito ed aveva una funzione soltanto di carattere economico e in sede di conversione è stato aggiunto un emendamento che è quello relativo alla riorganizzazione degli uffici giudiziari attraverso la revisione delle circoscrizioni e delle sezioni distaccate. Siccome è un argomento aggiunto e non era nel decreto legge di partenza, probabilmente è affetto da incostituzionalità, ai sensi e in violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Dato che noi siamo avvocati dobbiamo lavorare anche sul filo di lana. Esatto, prodomo nostra dobbiamo lavorare anche valutando queste cose. Bene, noi ringraziamo... È veramente una chicca che do in questo momento. In anteprima è che noi già da questa sera, massimo domani mattina, avremo online per dare queste indicazioni che tanti cittadini ci chiedono. Noi ci siamo preoccupati di avere notizie fresche, di avere notizie sicure, verificate e per questo ci siamo rivolti all'Avvocato Enrico Carminati che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie.